Mi trovo a Talsano, cerchiamo di girare tutta la città rappresentandovi il degrado, grave, pesante degrado presente anche nelle periferie. Talsano-Taranto, borgata di Taranto, comune di Taranto, appartiene al comune di Taranto per chi evidentemente non lo sapesse, Corso-Vittorio-Emanuele, angolo con la traversa via mare. Guardate un po' la condizione in cui si trova il manto stradale e in cui si trovano i marciapiedi. Guardate un po' qui i rischi che si corrono nel camminare. Guardate, marciapiedi rotti, mattoni distrutti e poi marciapiedi inesistente, tutto pieno di erbaccia. Per cui non so, le persone, l'anziano soprattutto, dove deve camminare? Tra l'erbaccia e non c'è possibilità di camminare. Se io devo camminare, dove cammino? Qui? Melucci? Sindaco Melucci, Assessore Mattiaggiorno, dove cammino? Qui? Vado nell'erba? Cosa mettiamo? Le pecore? A pascolare? O una persona deve camminare, deve stare sul ciglio della strada come sta accadendo ora, perché giustamente non ci sono i marciapiedi, una persona deve camminare sul ciglio? E viene investita. Stessa cosa, dicasi, guardate dall'altro lato. Guardate. Qui poi proprio c'è la vegetazione spontanea. Assurdo. Ma ritorniamo un attimino. Stiamo facendo tutto in presa diretta. Lavori fatti, credo, da Acquedotto Pugliese. Manto stradale, come si dice a Taranto, con un'espressione non molto elegante, volgare, sbonnato, rotto, fracassato, distrutto. Guardate un po'. Si mette un po' di brecciolino, asfalto che fa i dossi e cunette, sembra il tagadà, sali e scendi. E questo è un assaggio che vi stiamo facendo vedere di Talsano. Mi sono spostato di qualche metro e guardate qui, un altro quadro davvero desolante. Appuntate, vi facciamo vedere i disastri che le ditte provocano a Talsano e l'inerzia dell'amministrazione Melucci che evidentemente non sa farsi rispettare.